Infrastruttura e mobilità, ma anche potenziamento dei servizi metropolitani e marketing territoriale. Di questo si è parlato alla Camera di Commercio di Pisa nell'incontro dedicato alle strategie di crescita e progetti strategici a cui ha partecipato anche il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Pisa rappresenta un polo di importanza strategica per tutta la costa, ha detto Rossi, che ha ricordato gli impegni presi dalla Regione per l'area pisana e costiera, come l'ospedale, i progetti europei di ricerca, ma anche gli investimenti su Piombino e Livorno. Quello che però ancora manca è una visione d'area vasta, che ora deve essere costruita. Alla ripresa, dopo la pausa estiva, si comincia a lavorare per una conferenza di area vasta dedicata al tema delle infrastrutture e dei collegamenti. Non solo quello che dobbiamo fare in più, in termini ferroviari, in termini di viabilità, ma anche di come la realtà dell'area vasta può connettersi valorizzando le diverse presenze. Una visione di ampio respiro interconnessa di infrastrutture e servizi, come ad esempio, ha detto ancora Rossi, l'aeroporto di Pisa, i porti di Livorno e Viareggio, prospettive le cui potenzialità sono state illustrate nel corso dell'incontro pisano anche attraverso gli studi di IRPET e della Scuola Superiore Sant'Anna, con un obiettivo preciso. Competere a un livello alto con le città europee più eccellenti. In Toscana questo si fa in asse con Firenze, perché la vera area metropolitana è l'insieme di Firenze, della Toscana centrale e di Pisa come hub di tutta la Toscana costiera. Progetti e strategie di area vasta che ora dovranno tradursi in misure concrete, capaci di incidere non solo sulle infrastrutture, ma in prospettiva anche sul turismo e sul commercio nell'area pisana. Grazie.